Muore a soli 45 anni presidente della Proloco, lutto cittadino a Girifalco. Un giorno di tristezza e di dolore per la comunità di Girifalco per la scomparsa di Paolo Antonio Migliazza, presidente della Proloco, scomparso a soli 45 anni a causa di una malattia. L'amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia, ma per testimoniare la commozione dell'intero paese per il prematuro addio di un uomo molto conosciuto, anche per l'impegno nel mondo del volontariato.